Ola Framingo, ciao bene i cattiri e benvenuti in questo nuovo video, qua qui è Charlotte e oggi sarà un video un po' particolare perché a parte che ci sarà un ospite... Ah, io c'è un ospite, non so, vabbè, ciao ragazzi! E oggi passeremo 24 ore all'interno di una limousine e Tommaso non sa in quale limousine andremo, infatti è una di queste tre quindi forza Tommaso, ti sfido, scegli una di queste Allora, ti sfido Ok, va bene Fermo, fermo, ragazzi, nel mentre, scegliete anche voi, ok, una di queste tre e dopo vedremo qual è quella giusta e se avrete vinto oppure no Secondo me questa rossa, che è bellissima Ok, allora vedremo Hai indovinato? Eh, non te lo dico, vedrai Ci vediamo dopo, andiamo a cambiarci Quindi, 3, 2, 1 Ora, cambiati e direi che siamo perfetti per l'occasione e Tommaso, dobbiamo starci 24 ore È vero Bisogna prendere i cuscini, le coperte, tutto l'occorrente, ok? Ragazzi, bisogna subito andare Andiamo Prendo questo No, io Lo prendo io No, mi piace No, ragazzi È mio, guarda È il mio colore Ragazzi, c'è scritto I love you No, però se guardi così è il mio colore invece Questo è tuo Andiamo No, vabbè Eccola Allora, è bianca e quindi non avevo indovinato Ma è bellissima Ci sono i led No Wow Ok, non vedo l'ora di entrare dentro Entriamo? Sì Che gente Wow È bella anche all'interno È veramente bellissima No, ma poi guarda i colori che ci sono Davvero Qui ci sono tutte le led No L'hai messa te la scatola lì? Eh, no Ma c'era già dentro Aspetta, c'è scritto Trovate i super fluffy Sono questi qua Ragazzi Sono stichissimi Davvero Hanno le palline Qua c'è scritto che non secca E si può trovare in idicola Costa 3,50 euro No, però ragazzi Ci sono tutte le palline Secondo me è super crunchy questo È vero Cerchiamoli Ok, bisogna trovarli subito Ok, allora Fermo Io mi so dire la giacca perché sennò voglio così mi muovo meglio Ok Cosa sono? Forse servono proprio per cercare Sono delle luci Oddio, forse servono per cercarli davvero Che ne trovate più vince Va bene E poi mi raccomando scrivete giù nei commenti chi ha vinto 3, 2, 1 Allora, dove possono essere? Ragazzi ne ho trovato uno Venite qua Super fluffy e crunchy Wow È fucsia poi Ragazzi, è bellissimo Ok, allora Va bene Congeniamo con la sfida Guarda dove l'ho trovata io È viola Ci sono le palline blu Oddio, profuma pure Oddio, è bellissimo Guarda come elastico Oddio, raga, è super morbido È fantastico Poi c'è le palline Ed è super scomplettante Nooo Ok, allora Cioè è mai un profumo buonissimo Davvero Ok, allora mi sono innamorata proprio Dai, continuiamo Perché se no non riesciamo a trovarli Quindi uno pari Sì Siamo uno pari Tadà Ho trovato un altro Questo è giallo È uno dei miei colori preferiti È fantastico Guarda Tengo Sì Tieni Sì, tieni Fantastico Ragazzi, è bellissimo Dobbiamo trovarli altri Sì Quindi siamo due a uno Sto vincendo io ragazzi come sempre Ora recupero Io ne ho trovato uno Anch'io Fermo Chi lo prende prima vince Tre Due Uno Preso No, non vale però Non è giusto Ce ne ho due Questo è mio Questo è mio No, l'ho trovata io Questo è mio No, no, questo è mio Questo ha una particolarità C'è scritto glow in the dark Si illumina al buio Però ragazzi adesso non è a buio Ancora giorno No, davvero Ok, visto che siamo 24 ore qua Aspettiamo ancora un po' E poi proveremo a far illuminare Guardate Wow Sono bellissimi Davvero, sono super fluffy Vai Pronta Tre, due, uno Oddio Sono bellissimi Attenta, attaccate Ragazzi sentite Davvero Il profumo è top Davvero È fantastico Ragazzi Iniziamo già a vedere Che il colore Si sta un po' accendendo Davvero Non è che Sta facendo buio E Guardate Oddio ragazzi Guardate Alla luce blu È fantastico Noo Ne abbiamo trovati già sei Davvero Però siamo pari Credo Cioè tu hai fatto un casino Però Ragazzi Non è vero Non è vero Allora io Noo Noo No questo No questo non vale davvero Questo è mio Questo è mio Questo è mio ragazzi Un punto a me Ragazzi le palline sono tutte colorate I colori poi sono tutti accesi Wow È bellissimo Il profumo è buonissimo Ok però io ho tanta fame Cioè ho troppo fame Ok allora Quindi chiedo all'autista Sì per favore Ah Senti Io e Tommaso avevamo Tanta tanta voglia di McDonald's Ci puoi portarle là? Vai Perfetto Andiamo allora Non vedo l'ora di mangiare Anch'io No Non va bene Sì che va bene Questi servono a dormire No Ragazzi dopo soffi Sto maltrato No è che soffre Sono i sollevi Ragazzi Siamo arrivati al McDonald's Sto vedendo Esatto Un angelo Sono illuminati gli occhi Davvero Allora Allora io farai un McChicken Sì E io un Crispy McBacon Sì Coca Cola Sì Due Coca Cola Venite avanti Grazie Va bene Grazie a lei Ciao Arrivederci Davvero Davvero anche io Ora mangio Ok allora sei pronto Sì Veloce Veloce Oddio Ok Coca Cola Grazie mille E ora Oddio sì C'è le patatine McChicken per me E Crispy Bacon Grazie Crispy Bacon per te Allora facciamo una cosa Questi due sono miei E quelle patatine sono tue Vero ragazzi Cioè A me questi due E a lei le patatine Le patatine Le mangio tutte io Quanto siamo cringe Davvero Hai pensato la stessa cosa? Ok Dico troppo Facciamolo far dire Ho finito di mangiare Sono a pancia piena Quindi direi che posso dormire Ci vediamo dopo Ma che dormi? Io voglio un gelato Svegliati Stai calmo Ho voglia di gelato Voglio dormire Vero ora c'è Dopo aver mangiato al Mac C'è bisogno di un gelatino Vero? Ragazzi Stanno dicendo di sì Stanno dicendo di sì Ragazzi no Ragazzi Vi tieno un cucino poi eh No Ok Quindi tutti Stanno dicendo di Gelato e poi si dormi Vai Sì Tommaso E i fenicotteri Avrebbero voglia Di un gelato Ok Ok Ora ti puoi rifusare Due secondi Però poi No 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 Tanto Migliore devo fare io Queste cose Sempre Eccoli Prendilo Grazie Grazie mille Gentilissimo La nostra salvezza Oddio Oh No Vorrei sapere che gusti sono questi Questo è il tuo? Allora tu hai panna e fragola E io ho il gusto Charlotte È proprio buono il mio gusto Davvero Ragazzi Visto che c'è il mio gusto Ho intenzione di mettere La mia canzone Che trovate su Spotify Che si chiama appunto I love you La conoscete tutti Ovviamente Vero? La conosci? No Sai perché Sennò c'è da preoccuparsi Ok Allora 3 2 1 Finalmente è arrivata l'estate Non sto più nella pelle Questo caldo mi svegno Senza te Che mi emoziona di sempre Oh no Che cosa farò Se domani non ti rivedrò Lo so Ti rivederò In quella cosa Che per sempre Che cosa farò Oh oh Charlotte Oh 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 Ok Allora direi di continuare la nostra challenge 3 2 1 Trovato Era qui dietro ragazzi Nooo Wow Wow Guardate Questo è morbidissimo Sono tutti morbidissimi Com'è possibile Prova Hanno un profumo Che Oddio Ragazzi Guardate Se mi impegno lo trovo Dai L'ho trovato io No 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 Ragazzi Guardate che colore Ragazzi guardate Senti l'odore È bellissimo È bellissimo il colore Oddio Guardate Wow È bellissimo È veramente fantastico È fantastico Tommaso No Non lo voglio sentire Ne ho trovato un altro Wow Guardate Bellissimo No No Questo l'ho trovato prima io Ed è rosa Con le palline Questo è fantastico Gialle Ragazzi contate mi raccomando nel video quanti super fluffy abbiamo preso e poi giù nei commenti scrivete che ha vinto Guarda come è bello Ok Allora Qua ci sono tutti i super fluffy che abbiamo trovato E ringraziamo davvero tantissimo questi super fluffy per averci fatto divertire così tanto alla ricerca di questi qua E potete trovarli anche voi in edicola E ci hanno fatto anche un po' litigare ma questi sono dettagli E ringrazio anche Tommaso che mi sta facendo la luce con la torcia perché è arrivata notte appunto E adesso dovremo andare a dormire Quindi questi li appoggiamo qui E adesso dormiamo perché io ho sonno Ho detto proprio sinceramente Quindi Tommaso Ciao Ciao Buonanotte Buonanotte